Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Quella merda col cecchino non ho capito dov'è No, ti prego Porca di quella troia! Porca di quella troia! Ma ti sembra! Ma ti sembra! Porca troia! Non è necessario, non è giustificata la sospensione? No Dovrebbe apparire qua in centro ragazzi l'isola eh No chill Lori Don't worry Non faccio a dire signor Giaga Ma non avete litigato? Sì! Buongiorno! Salve! Vuoi litigare? Vuoi litigare? Vuoi litigare? Io vagabondo che son io Vado in giro e dico porco Io Nooo! Scusi Ha fatto lei eh? Non ci sono problemi Poi lo cambiamo ogni partita come al solito La prima è stata vinta Buongiorno Lucone La prima è stata vinta raga God Ciò dovrò che te lo faccio arrestare pezzo di merda Ma qui a di sto cazzo in faccia vai a cagare è deficiente Che ti sai che non lo sapevo che riglio da aspettarmi Questo Buckley? Questo Buckley è arrivato ragazzi molto bene questo E che ci posso fare raga? Ma oggi Ma in realtà ci ho preso con tutti i colpi Ho preso sia col primo pump sia con tutti i colpi del Delle mk Non lo so non neanche guardato Torniamo a fare le nostre bet normali Vediamo se veniamo matchate adesso raga Questa mattina Non so cosa dirvi questa mattina Poi dal momento in cui ingrani l'acqua Si fa ragazzi Si ma Roscio ho visto tre anni fa un booster al microscopio e da tre anni non mangio più booster Ne mangio kebab Che cazzo è un porco di canguro figa Un canguro figa Merda i tempi della banana d'oro Me li ricordo anche io me li ricordo Vamo sulla playa guys Mega mentality Subito col pump Ed Altri impulso più forziere C'è in game una cra Guarda perché hai trovato lo stunnato oxider Sei andato a prendere il pompa brutto idiota Sfrutto sto cazzo di pump Prendiamo leggendario Andiamo a rompere le palle qua Si fa raga si fa raga Ciao lion hunter Lo lo rollo Lion hunter 891 è dei nostri Ma com'è possibile? Nooooooo Nooooooo Nooo 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 Che errore Nooo Che errore Per quella giocata fuori safe Troppa roba di Marvel Penso che ci saranno dentro 300 euro di roba Mi ha fregato la cesta e vado io sotto Io non frego Io anticipo Allora Ah no beh no no goldman però dice che ce ne sono un bel po' eh di skin Ce ne siamo persa qualcuna di Dragon Ball Sì sì di Dragon Ball ne sono uscite un sacco Ne sono uscite però un sacco con il passare del tempo non tutte insieme Certo certo E Nettuno non posso tirarle questo impulso Porco di Azz Cristo di Dio Cristo Maledizione e Criami Aslaia Ecco Che l'era nuova però eh Eh siamo saliti Che cosa sta dicendo Nettuno Lei non è salito? Ma io non lo so se sono salito Io io sono salito ero 1.100 Eravano i like mi arrivi di like alla foto col bar Dove è andato Barclay? Barclay Barclay no raga ero cominciato di avere il rampino anch'io No Barclay 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 Ero convinto di avere Barclay 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 Eh ci muoio Adio caro Figlio di butana Porco schifo Ma ti sembra ma ti sembra Bravo che cazzo ti devo dire Ho affari in culo figlio di me novello però lei mi dice super focus con quella skill tanti auguri di buon compleanno novello grazie grazie bello sono giù in discesa libera io pure io e che ci con ha messo solo headshot ma io godo mi seguo sulla tua tomba figlio di puttana minchia quanto sto godendo persa mille patatine partire il giorno dopo che torna l'america sembra un po' una follia ok io ci volevo andare così tanto per vedere e a me mi ha chiesto se vuole andare giù a castare per fare una gita ci sta solo che poi ci devo pensare perché devo iniziare il liceo certo certo che cosa che cosa che succede dovevi essere morto qua eh già io sono ancora qua vabbè fesso vaffanculo cioè bravo e questo ti devo dire bravissimo vaffanculo nice nice sembra una femmina ma mi sono scoppato tua madre ieri sera a meno che non le piacciono le donne e credo che quella minchia che gli è entrata nel culo era la mia vamos mi sembra eh no mi sembra grazie a tutti grazie a tutti